Una cosa è certa fin d'ora. Il ruolo, permettetemi di chiamarlo esorbitante, che avrà avuto il premio di maggioranza nell'aggiudicare i risultati di questa elezione in termini di seggi alla Camera dei Deputati. Credo che non esista Paese nel quale sia così marcato e così pronunciato un pur comprensibile in sé premio di maggioranza inteso a facilitare, come avviene in diversi Paesi, la governabilità, ma non la sproporzione tra il risultato elettorale e la rappresentazione parlamentare. Questa, accanto a tante altre caratteristiche di questa legge elettorale che ha avuto nella letteratura e nella prassi il nome che si merita, queste sono le ragioni per cui sarebbe stato così fondamentale che le forze politiche trovassero un accordo per modificare questa legge elettorale. Grazie. 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 Grazie.